Ancora bentrovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnasa Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla 1, 6 km di coda per incidente tra Aglio e Calenzano nella carreggiata verso sud. In a 11 per traffico intenso sulla viabilità ordinaria, coda tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. Per traffico, rallentamenti tra Pistoia e il Bivio con la 1, tutto verso Firenze. Arriviamo in Fipili per traffico, rallentamenti tra la Strassigna e Firenze e Scandici verso Firenze. In carreggiata opposta per lavori, coda di 1 km con tendenza all'aumento tra Empoli-Est ed Empoli. Per traffico, troviamo inoltre coda in uscita a Pisa Nord-Est per chi proviene da SGC Firenze-Livorno. Muoversi in Toscana Infio, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio! Grazie a tutti!